Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questi spazi di approfondimento che sono quasi esclusivamente indirizzati verso il ballottaggio che andremo ad affrontare domenica 9 giugno. E questa sera ospitiamo nuovamente uno dei protagonisti, Massimo Seri, benvenuto, bene ritrovato. Ormai anche lei qui ha, possiamo dire, preso una grossa confidenza con i nostri studi, la cosa ci può solo che far piacere. E quindi con lei affronteremo un po' la tematica che in queste due settimane è stata centrale. Ballottaggio, che cosa si andrà a fare nelle urne, nel segreto delle urne, domenica 9 giugno? Che cosa saremo chiamati a fare, se lo vogliamo stigmatizzare in un certo modo, domenica prossima? Beh, intanto buonasera a tutti. Beh, la prima cosa da fare è tornare a votare domenica prossima per il ballottaggio, perché ci sono alcune persone che ancora non hanno capito che bisogna tornare per esprimere la scelta per il prossimo sindaco. Io ho incontrato delle persone che si complimentavano e gli ho detto ma non è ancora finita perché c'è ancora il ballottaggio ed erano rimaste sorprese. Ma al di là di questo, domenica siamo chiamati a scegliere il nuovo sindaco. E qualcuno per distrarre l'attenzione o perché manifesta delle difficoltà ha lanciato anche questa parola referendum creando della confusione. A parte che chi ha voluto personalizzare del referendum non ha avuto fortuna negli ultimi pagine della politica italiana. Ma al di là di queste battute, in realtà domenica si deve andare a scegliere chi meglio può interpretare il ruolo di sindaco in una città come quella di Fano, di 60 mila abitanti. Si va a scegliere tra due progetti di città nella loro complessità, perché fare il sindaco è complesso. Amministrare una città come quella di Fano non è semplice, occorre competenza, occorre anche esperienza e lasciatemi dire professionalità, come penso di aver dimostrato in questi cinque anni. Ci sono tante argomentazioni che sono venute fuori, però diciamo che in questo momento gli avversari si sono concentrati su due punti, tre se vogliamo, due sono complementari, ASET, Sanità e Digestore. Quindi sono argomentazioni che già si sono sentite. Sì, lasciatemi dire, è il solito disco rotto. Mi viene in mente un esempio che mi facevano sempre da ragazzino. Quando magari si gioca una partita e ci si trova in difficoltà, ci si rende conto che l'avversario gioca meglio di noi, cosa si fa? Si diceva in dialetto, lasciamocelo dire, buttale in cagnara o magari si gioca in modo scorretto. Qui mi sembra di rivedere la stessa situazione. Io capisco che oggi confrontarsi con me, adesso non voglio vantarmi, però oggettivamente ho raccontato in queste settimane le tante cose, i tanti progetti realizzati nella nostra città. E su questo non trovo mai un confronto, che poi sono progetti che hanno una continuità, che portano anche ad altri progetti per i prossimi anni. E sento sempre il solito discorso sulla sanità. Anche su questo, francamente, non se ne può più. Se vogliamo parlare di sanità, facciamolo in modo serio, non inventandoci le cose e dicendo la verità, parlando anche di atti amministrativi. Perché un conto sono le chiacchiere e un conto sono gli atti amministrativi quando si parla di pubblica amministrazione. E chi vuole fare il sindaco queste cose dovrebbe saperle. Alcune volte mi viene anche il sospetto che uno non conosca anche gli elementi base della pubblica amministrazione. Allora, anche sulla sanità, tutte quelle critiche che mi vengono rivolte in realtà dovrebbero essere fatte allo specchio perché riguardano tutte scelte antecedente al mio arrivo. E lasciatemelo dire, atti alla mano, dal 2015 in avanti, quindi da quando sono tutti gli effetti sindaco io, nella sanità fanese si sono solo aggiunti servizi e per quello che riguarda il Santa Croce, se c'è un sindaco che l'ha veramente difeso, è il sottoscritto. Tant'è che rispetto alle scelte del 2012, e poi lo riaffermo, la sanità è decisa dalla regione, non dall'amministrazione comunale, dove i sindaci, e uso il plurale, non il sindaco, i sindaci insieme nella conferenza di area vasta esprimono dei pareri. Però tornando a quelle scelte, il Santa Croce doveva essere chiuso. Con il protocollo che io ho firmato, con gli ultimi accordi atti, il Santa Croce rimarrà aperto anche nell'ipotesi della realizzazione di un nuovo ospedale. L'altra balla che si cercano di raccontare è quella su Aset. Siccome l'hanno sparata talmente grande, si sono resi conto, adesso hanno un po' modificato il tiro. Allora, ogni cinque anni ritorna la storiella che il sindaco vuol vendere Aset. È una bufala, ma veramente è una bufala. Il sindaco non vuole vendere nulla, lo ha dimostrato in questi cinque anni, come lo dicevano cinque anni fa, lo ripetono oggi. Ma mi rendo conto che hanno capito che l'avevano sparata grande. Allora adesso raccontano un'altra novella, e cioè quella di un nuovo digestore, dove Aset, realizzandolo, andrebbe in default e quindi di conseguenza andrebbero a vendere, a chiedere soccorso ad altre aziende. Allora anche questa è una storia che non sta in piedi. Noi vogliamo talmente bene ad Aset che l'abbiamo valorizzata, l'abbiamo arricchita, abbiamo aggiunto nuovi servizi. È una realtà solida e qui devo ringraziare tutti coloro che ci operano, perché effettivamente stanno facendo un bel servizio. a cominciare dall'ultimo che gli abbiamo affidato, che è la gestione del verde, che effettivamente è migliorata molto. E l'altra cosa che va stroncata, non ci sarà nessun impianto di gestore nella località di Falcineto, basta fare terrorismo. Poi mi reputo una persona seria, vivo in questa città, se racconto delle cose, dico la verità, perché dovrei raccontare delle bugie, poi incontrare delle persone della mia città, che mi dice sindaco, lei ci ha mentito. Quindi come ho fatto in questi cinque anni, che ho dimostrato onestà, serietà e coerenza, è mia intenzione farlo anche per i prossimi cinque anni. Quindi io vorrei che effettivamente il confronto si facesse sui contenuti, non su queste storielle, insinuando delle notizie che possono lasciare delle perplessità, delle preoccupazioni, però purtroppo mi rendo conto, ormai siamo agli ultimi giorni, se non è stato possibile farlo prima, sarà difficile farlo oggi, ma non per causa mia, io ho sempre cercato di parlare, di raccontare quello che ho fatto in questi cinque anni, ma soprattutto quella che è l'idea di Fano per i prossimi cinque. Ecco, prima in apertura ha detto giustamente che bisogna ritornare a votare, forse qualcuno non l'ha ben compreso, quindi che cosa si sente di dire a chi non è andato al voto già la volta scorsa e chi anche non l'ha votata, perché immagino che l'appello a coloro che sono un po' sull'indecisione sia necessario. Beh, intanto, mi ripeto, l'appello è di tornare a votare domenica, e cosa mi sento di dire a chi ha fatto altre scelte, cioè quindi chi ha scelto Marta Ruggeri o Teodosio Aspici. Intanto vorrei riconoscere la coerenza e la serietà dei due candidati che si sono fermati al primo turno, perché le azioni successive alle elezioni sono state quelle di coerenza, non hanno espresso delle dichiarazioni nette nei confronti dei propri elettori, perché la gente è libera di fare le proprie scelte. Quindi io posso dire che ho apprezzato molto questo comportamento. Quello che mi sento di dire a chi ha votato, Movimento 5 Stelle o la sinistra, è di dire di guardare i contenuti delle nostre proposte, che per molti aspetti sono comuni, poi inevitabilmente ci sono delle differenze, altrimenti ci saremmo presentati in un'unica coalizione, però di guardare anche un modello di come uno interpreta il ruolo di sindaco, come interpreta la gestione, l'amministrazione di una città. E su questo penso che il mio modo sia molto più vicino a loro. E lo abbiamo dimostrato anche nel confronto, perché nei confronti che abbiamo avuto, rispetto a quelli che ho in questi giorni, sono stati sui contenuti, poi inevitabilmente anche punzecchiandoci, ma è nelle cose. E questo la dice lungo, e significa che c'è anche una vicinanza su come si vuole interpretare il ruolo di sindaco. Perché in una città come Fano, terza città delle Marche, penso che anche come venga svolto il ruolo di sindaco sia importante. La gente giustamente ci tenga. E non quel confronto con arroganza, con quel modo di, non voglio dire supponenza, però sempre questo atteggiamento di superiorità, di denigrare l'avversario, di portare alla divisione. Invece a me piacerebbe, una volta finite le elezioni, ragionare tutti insieme, coinvolgere anche coloro che non sono stati eletti sindaco, e provare anche su quegli aspetti che si condividono, quegli aspetti in comune, nell'interesse della città. Io penso che questo faccia la differenza e la gente lo comprende questo. E lo preferisca al ricercare ogni volta la divisione, il litigio. E questo non fa bene sicuramente alla città, non fa bene ai cittadini, ma non fa bene neanche a chi aspira a fare il sindaco. Bene, le aperture sono chiave. Allora, abbiamo visto nella sua coalizione di lista che ci sono delle componenti giovanili molto importanti. Lei ha una lista a supporto proprio della sua candidatura, sia nella passata legislatura che anche in questa composta di giovani. E quindi immagino che lei tenga molto al parere di quella fascia di cittadinanza. E qual è stato, se glielo posso chiedere, il contributo di questi componenti al suo programma elettorale, naturalmente? È stato un contributo molto importante. Lo è stato cinque anni fa, ma anche di vivacità, di stimolo, a cui sono molto riconoscente. In questa tornata elettorale, devo dire, i giovani sono cresciuti, sono aumentati. C'è una lista proprio che porta il nome noi giovani, ma anche nelle altre liste c'erano molti giovani. e devo dire, tutti molto attivi. Attivi nell'organizzazione, anche simpatica, innovativa, ma anche nei contenuti. E noi abbiamo dedicato attenzione ai giovani. L'abbiamo fatto in un modo che io reputo anche intelligente. Perché pensare un progetto di città, pensare un programma di città, non lo si fa dicendo un capitolo, il paragrafo dedicato agli anziani, il paragrafo dedicato ai diversamente abili, il paragrafo dedicato alle donne, il paragrafo dedicato ai giovani. In realtà, tutte queste cose si integrano tra loro. Se noi pensiamo alla città, la pensiamo nella sua complessità. E allora, tutte le questioni che riguardano i giovani, le troviamo in tanti spunti. In un percorso che sta dentro un progetto complessivo di città. Quindi, dall'opportunità della ricerca, dell'innovazione, dei percorsi formativi, dai percorsi che possono aumentare, aiutare la ricerca del lavoro, tutta la parte del tempo libero, diciamo, dello spazio dedicato a una vivacità attenta anche ai giovani. Insomma, sono tanti gli aspetti che troviamo in un programma che, rispetto anche agli altri, si distingue proprio anche nella stesura, nel modo in cui è stato scritto. Però devo dire che l'apporto dei giovani è stato strategico, fondamentale e posso anche dire che i giovani saranno presenti anche nella mia giunta. I giovani sono una parte saliente della nostra società. Hanno bisogno anche di spazi, di punti in cui aggregarsi e dare sfogo alla loro creatività. Immagino che in questo secondo mandato voglia spingere anche su questo tasto. immagino sicuramente di sì. Sì, abbiamo anche dei progetti importanti perché, come dicevo, amministrare richiede anche i suoi tempi. Ci sono i tempi della progettualità, i tempi dell'appalti, i tempi della realizzazione. Ci sono i tempi per far nascere nuovi servizi. E allora anche su questo per quello che riguarda i giovani ci sono delle progettualità forti. Mi viene in mente ad esempio la riqualificazione del Sant'Arcangelo che sarà uno spazio non solo per giovani per tutte le fasce d'età ma diventerà un contenitore straordinariamente attrattivo e sarà in grado di dare risposte a tante esigenze a cominciare quella dei giovani e penso non soltanto della nostra città perché sono convinto che diventerà attrattivo per tutta una platea molto più ampia del confine comunale. quello sarà un luogo dedicato alla musica alla creatività ma c'è tutto un percorso che riguarda anche altri interventi. E lasciatemelo dire io ho un'idea forte per Fano in tre anni oltre a quelli che abbiamo già passato quindi con i progetti già realizzati con quelli che abbiamo in cantiere io penso che in tre anni Fano possa diventare se avrò la possibilità di proseguire nel mio lavoro la città più attrattiva delle marche e lo dico con cognizione di causa proprio sulle programmazioni e sugli interventi già definiti che porteranno veramente lustro e attrattività di Fano nel contesto regionale e quando lo si è a livello regionale lo si è anche a livello nazionale. Bene sfiorato l'argomentazione programma prima però ci ha fatto capire che un programma elettorale è un progetto di città non sono tanti compartimenti stagni ma sono dei vasi comunicanti quindi immagino che uno entri nell'argomentazione dell'altro quindi quali sono se li possiamo riassumere i punti di forza della sua proposta nuova proposta per la città che verrà? Primo Fano sempre più punto di riferimento io avevo detto cinque anni fa che avrei cercato di far uscire Fano dall'isolamento perché Fano era veramente isolato e su questo obiettivo ci siamo riusciti magari la percezione da parte dei cittadini non c'è perché molte volte la percezione e la realtà non coincidono questo è anche causa delle polemiche che la politica fa chi sta all'opposizione tende sempre a denigrare la propria città e l'operato di chi amministra e chi amministra cerca di raccontare poi io magari non sono stato così bravo a raccontare le cose fatte però c'è un elemento che dimostra questo la capacità che abbiamo avuto di attrarre risorse extra bilancio comunale perché quando si riesce a fare questo significa che si aprono delle relazioni significa che si sta in altri contesti extra comunali e noi abbiamo portato e qui ho usato la parola storica forse qualcuno pensa che ho esagerato ma non è così perché se andiamo a vedere non troviamo riscontri simili nella storia passata amministrativa della nostra città ecco siamo riusciti a essere presenti in tutti i contesti da quelli regionali nazionali ed europei quindi una città sempre più punto di riferimento e lo vediamo anche con gli eventi con le presenze che ci sono state in questi anni il fatto che sia arrivato un premio Nobel che abbia scelto Fano per fare l'anteprima di un evento straordinario anteprima mondiale ci sono 8 mila comuni in Italia abbiano proprio scelto Fano e grazie a questa attività che noi abbiamo fatto in questi anni delle nuove relazioni questo è grazie anche ad un lavoro che il sindaco ha fatto la seconda cosa è proseguire rafforzare l'attenzione verso quelle fragilità che ci sono nella nostra città perché ci sono delle fragilità e allora anche su questo un rafforzamento di un percorso che prenda per mano chi rischia di rimanere indietro e qui abbiamo delle progetterità precise che vanno in quella direzione poi proseguire nella crescita di Fano renderla più bella e vivibile renderla più bella quindi nella valorizzazione del proprio centro storico ma soprattutto ripartendo oggi anche dalla riqualificazione del lungomare che per troppi anni decenni è rimasta bloccata l'altro aspetto che è forte è quella della valorizzazione della qualità della vita dove residiamo quindi nei quartieri un lavoro che è iniziato in alcuni quartieri in modo importante in altri in modo più timido quindi una prosecuzione che va in quella direzione con un progetto chiaro e preciso che si ispira al Fano città dei bambini lo abbiamo fatto con un quartiere come primo progetto ha funzionato bene e quindi vogliamo farlo in tutti i quartieri e l'altra cosa proseguire perché la parte pubblica è già pronto il piano regolatore che in modo serio non abbiamo voluto portare durante la campagna elettorale perché sarebbe entrato nel tritatutto della polemica della strumentarizzazione politica e non avremmo fatto l'interesse della città abbiamo preferito prenderci qualche critica in più qualche polemica ma la serietà passa sopra ogni cosa quindi siamo già pronti anche su quello dal primo giorno di insediamento se sarò riconfermato sindaco come penso e quello sarà uno strumento importante anche di stimolo per quello che riguarda la ripresa economica di alcuni settori caratterizzanti della nostra città perché poi l'altro elemento su cui stiamo lavorando sono quelli delle attività produttive dalla parte che riguarda l'economia della nostra città con un progetto anche di marketing territoriale per attrarre investimenti sulla nostra città bene queste le motivazioni sicuramente però io vedo alle sue spalle lo slogan per il 9 giugno ogni voto conta quindi immagino che ogni cittadino sia chiamato a poter contribuire a questo momento importante quindi insomma sicuramente che cosa chiede ai suoi concittadini beh chiedo di tornare domenica prossima a votare perché è un momento importante non lasciamo ad altri la scelta di individuare chi deve essere il sindaco perché devono votare massimo seri beh mi verrebbe da dire per un motivo semplice non voglio essere presuntuoso ma per un semplice fatto oggi mi sento a metà strada in questi 5 anni abbiamo realizzato progetti importanti alcuni sono in cantiere e c'è un percorso importante da fare ancora il rischio è di perdere queste opportunità il rischio è di perdere tempo quindi votando per massimo seri in qualche modo è una garanzia di continuità ma soprattutto una continuità con alle spalle una serietà dimostrata sul campo come si suol dire mi reputo una persona seria ed onesta e questa è un'altra garanzia importante per chi svolge un ruolo da sindaco quindi riconfermarmi per i prossimi 5 anni significa dare la possibilità di completare un progetto ambizioso forte per rilanciare la nostra città su un percorso già avviato dove adesso siamo in una fase anche di accelerazione di realizzazione di tanti progetti importanti ci sono tutte le condizioni per far diventare Fano sempre più al centro della tensione una città sempre più di stampo europeo aperta moderna innovativa e questo è lo sforzo che io ho fatto in questi anni quindi chiedo di lasciarmi proseguire e concretizzare e ultimare questo lavoro per una città che noi amiamo fare il sindaco è complesso non è facile richiede esperienza tempo competenza e professionalità penso che vi aver dimostrato di avere queste caratteristiche quindi domenica 9 giugno vi chiedo di fare uno sforzo ulteriore tornate a votare e scegliete Massimo Seri fra l'altro lo dico con il sorriso questa volta è anche semplice non bisogna neanche scrivere nulla basta fare la X sul nome già stampato sulla scheda elettorale bene grazie Massimo Seri candidato alla poltrona di sindaco e quindi insomma che sia un buon voto per tutti grazie per essere stato qui insieme a noi questa sera grazie a voi e grazie a voi per averci seguito in questo ultimo approfondimento di stampo elettorale per questa settimana il 9 giugno domenica si va di nuovo alle urne per decidere il sindaco della città di Fano grazie a tutti voi grazie ancora Massimo Seri e con voi arrivederci ai prossimi appuntamenti salve grazie a tutti grazie a tutti